Ha convinto un disoccupato 52enne a non darsi fuoco, come minacciava di fare all'interno della sede dell'ufficio di collocamento di via Postiglione a Bari. Un tiratore scelto del nucleo investigativo dei carabinieri di Bari, libero dal servizio, ha fatto desistere l'uomo che aveva portato con sé una tannica da 5 litri di benzina e ne aveva già versato il liquido, le cui esalazioni avevano procurato alcuni malori, rendendo necessario l'intervento del 118. Il carabiniere, resosi conto del trambusto, è entrato nell'ufficio e ha cominciato a negoziare con il disoccupato, che aveva già acceso un pezzo di carta minacciando di darsi fuoco. Il militare è riuscito a farlo desistere, dopodiché l'uomo è stato prelevato dagli agenti delle volanti giunte sul posto e condotto in questura.